Buono, quanto facili sta accendendo, come vado a far vedere i veri cari? No, non si chiama, non si chiama, non si chiama. Bruf Marina. Se riusciamo a metterci in contatto con questi qua di Lucca. Un attimo, ci vediamo tutto qua. Aiuto, aiuto, aiuto. Non pensi che ha mai uno che ha dato una sorpresa. Come ti cazzo? Ehm... Ehm... Staci che ha disegnato un po' Tranquillo, togliere queste immagini sconce, mentre parliamo con il nostro super ospite. E' una di me, mi sembra Alex Britti. Eh... Chissi non può fare Alex Britti. No, non può fare Alex Britti. Eh, che gli vengono. Ops, ha sbagliato. No. Allora, chissi volevo ricordare. Eh, adesso... Alla destra del padre. Di nuovo verrà la gloria per incendicare. ...di più, siamo stati con tutta la famiglia di mio marito ed è stata una giornata molto tranquilla. Allora, salutiamo Fata21 che ha precisato il suo nickname nella chatroom montese. Sì, sì. Quante cose sono passate in questi anni. Fata21 diventerà Fata31 la settimana prossima. A due figli e a una laurea è passato un po' di tempo dalla chatroom montese. Allora, poi andiamo avanti leggendo i messaggi. Aha, vediamo un po'. Prima di tutti i ringraziamenti volevo fare al mio gruppo che si chiama il gruppo dei buoni. Poi c'è chi buono e chi meno. E ai miei amici compagni d'arte dei facciocase. Quest'anno ci stiamo facendo. Abbiamo un po' di difficoltà e appunto li vorrei sollecitare a ringraziarli a sforzarsi ancora di più. E che quest'anno siamo... A tenere duro. A tenere molto duro perché è molto difficile. Ecco.